Buongiorno o meglio buonasera perché sto registrando pochi minuti dopo la fine della partita dell'Italia. Come sempre pagelle come abbiamo fatto nelle partite di questo europeo con due premesse. La prima, nessuno l'ha fatto notare ma la vittoria dell'Ungheria ieri sera ci ha giocato a favore perché la situazione dei gironi C e F di fatto rende quasi impossibile, avrebbe reso quasi impossibile il non metterci due squadre e due terze alle spalle visto che già l'Ungheria comunque terza sarebbe stata alle spalle. Ma tante dettagli. Seconda premessa, il gol di Zaccagni nell'analisi complessiva della partita a mio modo di vedere non cambia nulla. È un gol che ci sta, che ci fa passare anche in virtù della prima premessa. Secondo me saremo passati comunque, troveremo la Svizzera, non troveremo, probabilmente sarebbe stato il Portogallo. Ma cambia pochissimo. Io vi ricordo di iscrivervi a Fubolitics la mia newsletter di calcio e di sport business. tra l'altro parlerò di Allegri dopo domani, anzi domani perché è nata una cosa incredibile secondo me. C'è il contributo di una persona che mi ha scritto in questi giorni, allora non sarà un pezzo mio ma sarà un pezzo, un contributo che ho ricevuto. iscrivetevi a Fubolitics. Like al video se vi è piaciuto, campanellina per rimanere sempre aggiornati su questo canale e iscrizione se non l'avete ancora fatto. Andiamo alla partita. Io non credo che l'idea che dicevo prima dell'Ungheria che vincendo ci aveva favorito, perché già l'Ungheria sarebbe finita dietro a noi, non fosse stata analizzata nel clan azzurro. Era molto difficile che le terze, che le quattro terze ci vedessero fuori, visto come si stavano mettendo e come sono messi i gironi, ma tant'è. Ci siamo presentati in una partita che andava gestita, che andava portata al termine con diligenza e poco più e non l'abbiamo fatto. Erano loro a giocarsi il tutto per tutto, sono stati sfortunati, hanno preso il gol di Zaccagni negli ultimissimi minuti. Dovevano solo vincere loro, praticamente è andata così, è finita così. Vedremo quale sarà l'epilogo. La partita è stata onestamente gravemente insufficiente, tra un attimo darò le pagelle. Secondo me, quando per la terza volta in tre partite il tuo portiere ti salva, parando un rigore, salvando più dell'inimmaginabile, non puoi dire diversamente. Aggiungo che raramente ricordo nella storia della nazionale, da quando la seguo, un CT così confusionario. E dico, attenzione, confusionario. Secondo me lui aveva molto chiare le idee, ma è stato confusionario, perché ha fatto dei cambi che non ho capito. È stato fortunato, perché ha trovato un gol all'ultimo minuto. E poi l'avevo detto in premessa. Abbiamo rischiato di non segnare una squadra che prende gol da nove partite consecutive agli europei, e che nelle ultime tre agli europei ne ha presi dieci, e che ne ha presi cinque negli ultimi due, se non volete considerare il 2021, che è lontano nel tempo. Ma c'erano otto giocatori di quella squadra dentro, quindi è la stessa squadra praticamente. Siamo stati la peggior squadra con la Croazia in questo girone. E io veramente non ho parole per il tipo di prestazione che abbiamo fatto, non salvo nulla. Poi, sono sufficientemente vecchio per sapere che da qui in avanti cambia tutto. Cambia la storia, cambia la narrazione. Attenzione perché la Svizzera è una signora squadra. Da qui, ripeto, cambia tutto, cambia la storia, cambia la narrazione. Può veramente ribaltarsi tutto, ma tant'è. Questi siamo e questi abbiamo mostrato di essere. Stiamo a vedere che cosa riusciremo a fare. Andiamo alle pagelle, perché davvero, in generale, sono mortificato dal vedere una squadra così, dal vedere un'Italia giocare in questo modo. Perché non è comprensibile per me giocare in questo modo. Allora, Croazia, Livakovic dò sei e mezzo, aveva fatto una grande parata su Brozovic. Ricordiamolo che noi abbiamo fatto in tutta la partita tre tiri nello specchio e nel secondo tempo quello di Zaccagni è stato l'unico tiro nello specchio che abbiamo fatto. Quindi questo è un dato. Livakovic sei e mezzo. Stanisic sei e mezzo. L'ho visto molto meglio in altre situazioni in Bundesliga. Sutalo sei e mezzo. Sei, perché comunque da quella parte arriva dentro Zaccagni. Quindi però sei. Pongracic sei. Guardiol sei e mezzo. Modric onestamente gli do sei e mezzo per l'età, il rispetto e la stima. Ammonito, sbaglia il rigore, riesce a fare gol, è riuscito a fare tutto il contrario di tutto. Poi è stato sostituito. Brozovic sei. Ha svolto il suo compito, si è fatto ammonire. Kovacic sei e mezzo. Stranamente il migliore del centrocampo croato secondo me ieri. Sutic sei. Kramaric non mi è piaciuto. Cinque e mezzo. Pasalic cinque. Tra i subentrati Budimir è entrato all'inizio della ripresa al posto di Pasalic. Sei e mezzo. Mette lo zampino nella situazione del gol. Perisic e Ivanusec sono entrati per Sucic e Kovacic. Kovacic secondo me entrambi fino al gol subito comunque non avevano... non avevano... non avevano demeritato sei, quindi Maier sei. Juranovic entra, subisce il gol, la squadra non è colpa sua, rimane un senza voto. Italia, e qui c'è tanto da dire. parto dal Citi. Spalletti do a quattro. ha cambiato la squadra, ha fatto 3-5-2. 3-5-2 che dopo il vantaggio è immediatamente sconfessato, non cambiando di fatto nulla perché praticamente dal gol subito al... al... al gol fatto di Zaccagni non abbiamo mai tirato in porta. Nonostante fossimo di fronte a una squadra palesemente in difficoltà a difendersi. Una squadra che non era difficile da attaccare, una squadra che non dava l'idea di solidità, dava l'idea di essere in confusione stessa a difendersi. Certo, spazzava, buttava fuori, buttava il cuore oltre l'ostacolo, ma una squadra secondo me disorganizzata difensivamente contro i quali siamo riusciti a fare un tiro in porta e fortunatamente abbiamo fatto gol. Quindi cambia, ma ecco, quando tu fai un cambio e passi dal 3-5-2 al 4-3-3 e il 3-5-2 è quello che hai cambiato prima, devi tornare a delle certezze, a delle certezze che ti portano a fare i tiri, a fare le occasioni. Di questo nulla è accaduto e quindi secondo me è davvero inspiegabile. La gestione dei cambi onestamente mi viene da sorridere, devo dire la verità, perché andiamo con ordine, frattesi, perché ha cambiato il regista, posto che oggi nel calcio moderno per me il regista è più fagioli che Giorginio, o meglio questo Giorginio che gioca sempre in orizzontale ma poi non ha nemmeno la forza d'urto del difensore, ma va bene, andiamo avanti, ma perché 10 minuti di fagioli? Così, vabbè, frattesi, messo dentro, fallo, chiesa, perché è stato escluso dall'inizio, giocatori spostati continuamente, secondo me probabilmente lui aveva delle idee, non è che era lui in confusione, ma è stato confusionario per anche quello che si è visto, perché, ripeto, la reazione contro una squadra non solida, tutt'altro che solida è che abbiamo fatto un tiro in 30 minuti, quasi 40 minuti, con recupero eccetera. A me questa cosa qui sembra ampiamente insufficiente. Donnarumma, 8. Come sempre, il migliore ci salva, andiamo avanti così. Darmian, boh, né carne né pesce, 5. Bastoni, gli do 6, però quando sei lì davanti al portiere vale anche per un difensore, il gol lo devi fare. Poi, difesa, partita, secondo me, monumentale, ma poi devi fare gol quando sei là e sei lì, se sei quello che deve stare lì a fare il gol. Calafiori, 6. Giorginio, 5. Di Lorenzo, di Lorenzo mi era piaciuto nel primo tempo, poi, boh, si è perso via come tutti gli altri, 5. Barella, 6. Pellegrini non ho capito perché l'ha cambiato, per me era 6 e mezzo nel primo tempo, poi, boh, mette frattesi, frattesi come Bruno Sacchi, 3. Cioè, frattesi, no, per favore, basta. 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 Di Marco, 5. Boh, non ho capito bene se sapeva che stava giocando. Raspadori, 5. Ritegui si è battuto, si è dannato l'anima, però, onestamente, se questo è l'attaccante che abbiamo, 5 e mezzo. 5 e mezzo per l'impegno, ma così, ma proprio di stima e di incoraggiamento. Cioè, onestamente. E i subentrati, frattesi, l'ho detto, 3. Chiesa, 6, perché tutto sommato, boh, ci prova, ma, però, 5 e mezzo, 6, adesso qui, poi, è tutto relativo. Scamaca, doveva toccare un pallone, non l'ha preso. Zaccagni, 6 e mezzo, grazie, che ci hai salvato, Mattia. Nicolò Fagioli, solo per averci dato un barlume di idea, di regia, posto che poi non è che abbia fatto sto granché, meriterebbe la menzione col 6. E, comunque, si batte, entra, fa il suo. Ragazzi, è una situazione, secondo me, drammatica. Andiamo avanti, saremmo andati avanti, a prescindere, lo ripeto, perché, comunque, e questa verifica magari la facciamo, seguite FootballITX, la scriverò quando finiscono i gironi. Io sto dicendo che, anche perdendo 1-0, saremmo passati lo stesso, perché, in virtù dell'Ungheria, saremmo passati lo stesso. Ma, detto questo, bisognava fare tutt'altra partita. Siamo stati la peggiore avversaria della Croazia. Abbiamo fatto una partita di una confusione totale. Cambiato, girato, fatto. Onestamente, la speranza è l'ultima a morire, ma per me, questa Italia, non è all'altezza della tradizione del nostro calcio. Grazie e buona serata a tutti. Ci vediamo presto. Grazie a tutti. Ciao. 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 Grazie per la visione!